Con l'accensione delle luci del tradizionale albero delle luminari, il cui allestimento è già iniziato, sabato 4 dicembre prenderanno in via le iniziative del Natale in città. Il cartellone di eventi è prontato dall'amministrazione comunale di Pistoia per le feste invernali. L'installazione degli addobbi è prevista dal centro storico sino a Capostrada e Ponte Lungo. Decorazioni natalizie saranno proiettate sulla facciata del Tribunale in Piazza del Duomo con il campanile che sarà illuminato da una cascata di luci. Nei punti più caratteristici della città saranno collocati i 12 alberi di Natale e anche quest'anno saranno esentati dal pagamento del suolo pubblico tutte le attività che allestiranno in proprio alberi natalizi. Nei prossimi giorni, sino al 17 gennaio, in Piazza San Francesco tornerà la pista di patinaggio su ghiaccio, più grande che in passato, e sarà aperto qui un banchino per la vendita di dolciumi. A questo si affianca la parte culturale della proposta. Ci saranno inaugurazioni di mostre importanti nei nostri musei principali, anche in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. La nostra associazione teatrale pistoese ha predisposto un ricco cartello di spettacoli per famiglie, bambini, ma anche legate al teatro, alla musica. Per le mostre, la 3 dicembre, sarà aperta e visitabile, sino a maggio, al Museo Civico, quella dedicata a due dipinti di San Jacopo e Sant'Atto. L'11 dicembre, aperta sino al 9 gennaio, sarà inaugurata la mostra nelle sale affrescate, dedicata a Remo Guardigiani, mentre il 18 dicembre sarà inaugurata un'altra esposizione a Palazzo Fabroni su Gualtieri Nativi, maestro dell'astrattismo del secondo dopoguerra. Per gli spettacoli, il clou sarà con Neri Macco Re in versione cantautorale al Teatro Manzoni la sera del 30 dicembre. Due gli appuntamenti per l'ultimo dell'anno. In prima serata, al piccolo Bolognini, ci sarà un concerto di musica jazz, mentre dalle 23 in poi, in Piazza del Duomo, si esibiranno di extra liscio, con altre proposte che sono in via di definizione. Con sicurezza, con tutte le regole del caso, che naturalmente ci sono all'interno dei teatri, ci saranno nelle piazze, ci saranno in tutti gli eventi, ma comunque un cartellone ricco che dia speranza, che dia gioia, che faccia tornare a fare aggregazione alle persone, ritrovarsi intorno alla cultura, in un museo, o semplicemente a passeggiare per la città, godendosi illuminare per comprare un regalo per i propri familiari.